Mi state chiedendo, questo ci vuole insegnare a fare la macedonia, no? Assolutamente, anzi questa macedonia che io sto per fare è veramente semplicissima con la frutta che ho trovato però l'aggiunta dello sciroppo di lampone fatto in casa, eccetera, sul canale veramente gli dà un tocco eccezionale Io ho comprato banane, mele e prugne ma potete usare la frutta che volete Adesso è la stagione delle prugne, quindi io ne approfitto Chiaramente ho lavato bene la frutta e ora la taglio a pezzettini Questa non è una ricetta, ma è semplicemente un'idea Per usare il succo di lampone, lo sciroppo di lampone, la ricetta è sul canale Alla fine comparirà il link, è una ricetta facilissima, velocissima e ne vale veramente la pena Ho già pubblicato diverse ricette con questo sciroppo di lampone Sono tutte molto facili, ma soprattutto molto buone Anche le prugne Ho già pubblicato il liquore prunella Preparazione banalissima È un liquore veramente speciale Bene, aggiungo questo squisito sciroppo di lampone La macedonia è pronta, adesso l'assaggio Comparirà il logo su cui potete cliccare per iscrivervi I link di altre ricette Vi ringrazio della visione Vi ringrazio dei commenti E adesso si avvicina l'inverno Quindi ricominceremo a fare i miei adorati formaggi Qualche vino e tante altre buone ricette Grazie 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 Grazie